Segreto bancario e Svizzera, un binomio destinato a sparire. Svolta epocale nella vicina confederazione, le autorità elbetiche hanno infatti appoggiato la dichiarazione dell'Ocse a favore dello scambio automatico di informazioni bancarie in materia fiscale. Un cambiamento storico, destinato a cambiare per sempre i rapporti della Svizzera con gli altri paesi. È sicuramente l'addio all'abuso del segreto bancario a scopo di evasione fiscale, commenta l'avvocato luganese Paolo Bernasconi. Ora inizierà la fase dei negoziati, aggiunge Bernasconi, perché lo scambio automatico di informazioni entrerà in vigore una volta ratificati i trattati bilaterali. Dunque il governo svizzero chiederà al Parlamento il mandato per iniziare i negoziati con l'Unione Europea. Non è escluso però che una volta ratificato l'accordo possa essere indetto un referendum per sondare la volontà popolare. Ad ogni modo la Svizzera ha compiuto l'ennesimo passo avanti verso l'addio al segreto bancario. Una scelta non totalmente condivisa oltre confine. Contrario per esempio il diputato Lorenzo Quadri della Lega dei Ticinesi, che parla di passo affrettato, a maggior ragione in assenza, le adeguate contropartite. Con questa firma, dice Quadri, lo smantellamento del segreto bancario è sempre più vicino, quindi, aggiunge, la permanenza della Svizzera nella blacklist italiana è assolutamente ingiustificata. In caso contrario, precisa il deputato, dovremo rivedere gli accordi sul versamento dei ristorni. E ancora una volta, insomma, a rimetterci sarebbero i frontalieri e i comuni di confine.